Musica Allora oggi abbiamo iniziato, abbiamo inaugurato questa nuova iniziativa che si lega al filone dell'intelligence io come rettore dell'università della Calabria ho partecipato volentieri anche per ricordare che quest'anno partirà il corso di laurea magistrale due anni, fondo in intelligence ed è uno dei primi corsi in intelligence fatti dall'università italiana abbiamo deciso, dopo che da anni si realizza il master in intelligence tenuto dal professor Caligiure abbiamo deciso di attivare un corso di laurea perché ormai siamo convinti che gran parte dell'intelligence si fa sulla conoscenza e i futuri esperti di intelligence non saranno più le solite spie come nei classici film ma saranno esperti della conoscenza e sulla conoscenza è appannaggio dell'università l'università è giusto che si fanno coinvolgere in un discorso di creare delle nuove figure di ricercatori, di personale coinvolte nel settore conoscenza dell'intelligence anche perché io sono qui perché c'è questo discorso avviato da anni e quindi per ricordare che anche l'Unital non è rimasto indietro in questo segmento che riguarda il futuro riguarda soprattutto la sicurezza del nostro futuro grazie a tutti grazie a tutti